Ben ritrovati ragazzi dal vostro Bentitus, siamo tornati nuovamente a parlare di Ubuntu, visto che in questi giorni uscirà a breve la nuova LTS 24.04, stiamo vedendo in questo caso una daily live che praticamente non cambierà assolutamente poco o nulla, ma divideremo questi due video in due fasi, una dedicata all'installazione e un'altra proprio all'esperienza rinnovata di questa distribuzione. Ma prima di farlo, spazio con la sigla. Ed eccoci qui, tornati sull'installer classico di Ubuntu, Ubiquity, che è stato completamente scritto in Flutter. Vedete che Canonical sta utilizzando sempre di più questo formato, questa tipologia di sviluppo. Lo utilizza anche all'interno del nuovo App Center, però questo lo vedremo in seguito. Ma adesso concentriamoci più sull'installer e l'installazione in sé per sé, cosa cambia e cosa è rimasto un attimo invariato. Innanzitutto una cosa davvero molto particolare che noto è la possibilità che se andiamo ad applicare lo stile Dark all'interno della nostra installazione, vedete che ci va a cambiare anche lo stile di Ubiquity. Ovviamente per farsi appunto che sia di più facile lettura, lasciamo quello chiaro e mettiamo appunto a tutto schermo. Se ci dà appunto la possibilità o meno. Poco importa, va bene. Andiamo avanti, scegliamo la nostra lingua. Una volta scelto la nostra lingua, chiaramente lui ci dice che cosa vogliamo andare a personalizzare della nostra Ubuntu. Chiaramente essendo una Daily Live e non una ufficiale, alcune cose non sono state ancora tradotte in maniera perfetta. Vedete anche qui, possiamo andare ad abilitare alcune funzionalità per quanto riguarda l'udito, la vista, la scrittura. Questo ovviamente è tutto ciò che riguarda l'accessibilità, quindi lo hanno messo in questo punto di Ubiquity. Ovviamente possiamo scegliere anche quella che è la nostra tastiera. Andiamo avanti. Scegliamo una connessione, in questo caso essendo una virtual machine, abbiamo una connessione via cavo, ma è virtuale. Ovviamente qui ci dà pure la possibilità di poter fare un aggiornamento se vogliamo passare ad utilizzare Ubuntu Pro. Ubuntu Pro, a differenza della versione normale, ci dà la possibilità di avere un supporto per 10 anni. Andiamo avanti e vedete che possiamo scegliere due tipologie di installazione. Un'installazione interattiva e un'installazione automatizzata. Interattiva, ovviamente, step by step, ci guiderà in ogni aspetto che noi vogliamo inserire all'interno della nostra distribuzione Ubuntu. Automatizzati, invece, farà lui tutto il resto. Quale applicazioni installare? Ecco che qui, praticamente, vi dà la possibilità di scegliere la tipologia di applicazioni che volete presenti. Quelle essenziali, quelle ad esempio web browser e utility basic, oppure invece una selezione amichevole, qui dice offline, sicuramente a che fare con la suite office e altre utility e web browser. Anche in questo caso ci richiede l'installazione del software di terze parti, incluso, vedete, wifi, viene specificato e in questo caso possiamo scegliere anche se andare ad installare dei codec specifici per la riproduzione di contenuti audio-video. Andando avanti procederà appunto con la sezione riguardante anche il partizionamento. Vedete che possiamo decidere di cancellare in maniera completa il disco e dare a lui la possibilità di autocreazione di tutte le partizioni che serviranno per il funzionamento del nostro Ubuntu. 2.0.4 oppure qui dice per utenti advanced, quindi utenti esperti, potete decidere anche voi come, ovviamente, qui tutte le varie impostazioni, tutti i vari formati, e diciamo voi potete configurare come veglio credete la vostra, ovviamente con cognizione di causa, fate questo, altrimenti potete rendere il vostro dispositivo inavviabile e quindi non vi partirà. E' importante fare questo magari quando, ad esempio, ci sono opzioni di dual boot, allora in questo caso conviene sicuramente procedere in questo modo. Altrimenti, tornando indietro, basta fare, cancella il disco e installa Ubuntu. Andando avanti, ovviamente noi andiamo ad inserire quelle che sono le caratteristiche del nostro PC e possiamo scegliere anche se averla in Active Directory, se siamo presenti sul dominio, quindi lato server, oppure invece no e quindi utilizzarlo soltanto come workstation per uso personale. rinominiamolo, scegliamo una password, non ci interessa in questo caso l'uso di Active Directory e quindi andiamo avanti. Ed è qui in questo caso che ci chiede la scelta del fuso orario, quindi la scelta regionale della nostra area, della localizzazione. In questo caso vedete che lui in automatico è riuscito, in base al nostro indirizzo IP, perché siamo collegati ad una rete, ad individuare la nostra posizione. Quindi andiamo avanti. Ed ecco che qui alla fine ci fa un riepilogo generale. Anche questo l'apprezzo molto perché in questo modo davvero voi siete in grado di avere sotto mano tutta quella che è la vostra configurazione. Come vedete appunto abbiamo deciso di far fare all'installer in automatico di Ubiquiti, la cancellazione, l'installazione automatica. Questo è il nostro hard disk virtuale e come applicazioni selezionate abbiamo detto la sezione estesa. Quindi avremo la presenza anche del suite office. Per quanto riguarda la protezione dei dati all'interno dell'hard disk non è stata abilitata e sono state invece abilitati sia i software proprietari che i codec necessari per la riproduzione di contenuti audio e video. E queste invece sono le nostre partizioni che possiamo un attimo spulciarle un po' insieme. Come vedete ci dà la FAT32 che è sicuramente quella che ci serve per l'avvio del sistema UEFI. Poi abbiamo la seconda partizione che in questo caso però vedete che è una XT4 anziché una PTRFS. Fatto questo andate avanti con installa. E questa appunto è la schermata di installazione dove appunto potete visualizzare sia quello che sta accadendo in background attraverso un terminale oppure lasciare il tutto che venga nascosto. Vedete? Ci va ad aprire il terminale e inizia a configurare passo passo tutta la nostra installazione. Vedete? Vedete che ci sono anche delle slide che ci consigliano un po' quelli che sono i software che vengono utilizzati e che vengono appunto consigliati più che altro. Vedete anche se siete degli sviluppatori vi mette già un'idea delle idee di software open source free che possono essere utili al caso vostro. Qui invece vedete ci mette un elenco della suite grafica audio video quindi blender per lo sviluppo delle applicazioni in 3D, video in 3D, audacity per l'editing audio. E kpdm live ovviamente un ottimo tool per quanto riguarda l'editing video. Ovviamente vedete che ci consiglia per quanto riguarda la privacy nel utilizzare alcune risorse importanti come ad esempio Firefox che reputo uno dei più importanti browser free ed open source presenti oggi nel web. Nel mondo del web anche Brave che è un progetto che si distacca un attimo da Firefox ma che comunque parte sempre da esso visto che appunto la sua storia deriva appunto da Firefox. Da Firefox in quanto uno degli sviluppatori presenti e anche importanti di Firefox si è uscito fuori dal progetto e ha realizzato Brave ma non è questo quello che ci interessa. Vedete che anche qui possiamo avere anche l'accessibilità come abbiamo letto all'inizio il menu di accessibilità. Ovviamente decantano anche il supporto e l'help e finisce qui. Bene mettiamo un attimo in pausa il video al termine ci rivediamo per un saluto. Ed eccoci qui terminata l'installazione ci uscirà appunto questo messaggio dove ci confermerà il fatto che Ubuntu 24.04 LTS è stata ultimata quindi è andato tutto per il verso giusto altrimenti sarebbe uscito appunto qualche errore. E ovviamente ci chiede o di riavviare la macchina oppure di continuare a provare questa distribuzione. Ovviamente non lo faremo adesso perché come abbiamo già detto faremo un altro video dove analizzeremo punto dopo punto nel dettaglio questa nuova distribuzione di Canonical e vedremo anche quali novità ha in servo per tutti quanti noi. Bene detto questo diciamo che abbiamo detto un po' tutto su questo installer quindi ci vediamo alla prossima sempre qui dal vostro Pentitus. Ciao!